ti sei mai sentito perso dopo una rottura sentimentale sentendoti frustrato e non sapendo più come ritrovare te stesso se sì sei nel posto giusto perché in questo video ti darò cinque consigli per riprenderci agevolmente dopo una rottura sentimentale io sono roberto ausilio psicologo psicoterapeuta e mi occupo da più di vent'anni di aiutare le persone di sbloccarsi aprire la propriamente e vivere senza il freno a mano grazie alla psicologia e alla crescita personale ho fondato e sono il direttore di psy life academy la tua psico palestra per la crescita personale oggi voglio parlarti di un problema comune e cioè quando finisce una relazione è normale stare male nessuno può eliminare totalmente quel dolore ma possiamo farci aiutare dalla psicologia per riuscire a re incanalare quelle emozioni ea riprendere la nostra vita senza strascichi eccessivi la prima regola che voglio dirti è questa accetta e vivi il tuo dolore molte persone in seguito ad una rottura vogliono andare subito oltre passare alla relazione successiva magari oppure buttarsi a capofitto in uscite con amici in divertimenti distrazioni che sono solamente lì per lì delle soluzioni ma che in realtà spesso si rivelano dei palliativi delle cose che ti portano poi a pagare il conto con gli interessi il dolore non è bypassabile c'è bisogno di un periodo in cui ti prendi uno spazio per te anche per star male per riflettere certo viviamo in una società che non accetta facilmente questo quindi tutti ti diranno ma su ma dai e invece difendi uno spazio di incubazione del dolore non aver paura di stare un po lì dentro è un momento prezioso di introspezione di crescita personale e in questo puoi farti aiutare da noi di psylife dai miei terapeuti che possiamo essere al tuo fianco secondo punto crea una nuova routine è molto facile che usciti da una relazione si crei una specie di terremoto anche nella nostra gestione del tempo nella nostra agenda le abitudini che avevi prima sono saltate e ti ritroverai inevitabilmente a dover ricreare un nuovo equilibrio è un momento di opportunità perché attraverso le strategie di time management che ti spiegano i videocorsi tra cui anno da leone magiche abitudini in tutti questi percorsi ti accompagno a ritrovare un tuo equilibrio nella gestione del tempo e delle tue giornate in maniera ad aver chiari i tuoi obiettivi da perseguirli e da trovare una routine quotidiana funzionale che non sia né troppo piena da impedirti di entrare dentro te stesso in introspezione né troppo vuota da lasciarti sguazzare totalmente nel dolore terzo punto circondati di persone positive taglia via i rami secchi ricordati di liberarti da narcisisti manipolatori come ti spiego qui nel libro nel videocorso narcisismo liberi per sempre perché spesso le nostre relazioni sentimentali sono anche un po il riflesso delle persone di cui ci siamo circondati negli anni fai un'analisi accurata e se necessario liberati di relazioni tossiche che non ti portano a nulla anche in amicizia circondati piuttosto di persone sane positive che come te che come me credono nella crescita personale che si rimboccano le maniche e che creano un movimento di crescita personale di responsabilizzazione e di libertà quarto evita i contatti con l'ex molti dei miei pazienti hanno difficoltà a staccarsi soprattutto dai dannati social da whatsapp maledetto perché vanno sempre lì a controllare su instagram le storie gli stati tutte queste fesserie che non fanno altro che riportarti lì dentro che riportarti nel dolore che riportarti all'interno di un blocco energetico quello che puoi fare invece è chiudere questa parte qui progressivamente in maniera da aprirti al nuovo e per chiudere questo conviene evitare i contatti con le ex le persone che vogliono a tutti i costi da subito rimanere amici con lex spesso hanno difficoltà a elaborare quella separazione hai bisogno se non altro di un periodo di allontanamento quinto investi in te stesso e questo è forse il punto principale perché una frase che ti è molto piaciuta e che il chiodo giusto per schiacciare quello vecchio è l'amor proprio dobbiamo ripartire da noi stessi dalla ricomposizione di quella che è la nostra persona a livello psico fisico energetico spirituale sociale per crescere per andare avanti quindi investi su te stesso significa iscriviti ad una academy di crescita personale prendi dei libri leggi fai corsi di formazione riprendi quel tuo vecchio hobby che avevi tralasciato investi in te stesso significa fai ciò che ti fa brillare gli occhi ciò che accende la tua anima lascia perdere il confronto con gli altri lascia perdere le ore sui social a scrollare bacheche che ti fa venire la tendinite al pollice riparti da te stesso e ti saluto con amore compassione chiedendoti una piccola cortesia e cioè quella di diffondere questo video ai tuoi amici alle due amiche che possono averne bisogno perché come ne hai beneficiato tu possiamo creare un impatto molto forte su noi stessi sul mondo intorno a noi diffondendo conoscenza consapevolezza e benessere ciao buona vita